Il grembo vuoto di Maria è fecondato dallo Spirito, si riempie di vita e ci porterà la salvezza la notte di Natale. Il tempo dell'Avvento è un po' questo, renderci conto, innalzare il nostro sguardo, i nostri occhi a gridare cieli piovete dall'alto, nubi dateci il santo. Sono comunità cristiane che chiedono la salvezza sul vuoto delle proprie vite e allo stesso tempo diventano fonti, momenti, elementi di salvezza per i poveri. In questo senso, per esempio, in questo tempo di Avvento è molto bello il fatto che con sempre più comunità cristiane riusciamo a creare grembi vuoti nelle parrocchie, spazi per accogliere le persone che non hanno un posto dove stare, relazioni significative da offrire alle persone che non hanno nessuno. Ecco, mi pare che possa essere il modo più sensato e più arricchente per ricevere la salvezza di Dio dall'alto e allo stesso tempo essere segno di salvezza per gli altri, per i poveri. Alla fine sono i poveri che ci salveranno da questo punto di vista perché ci danno la possibilità di accogliere colui che non ha posto, di accogliere in famiglia colui che non ha famiglia. Buon avvento a tutti!